Credo che Fabio abbia rispetto a uno dei primi punti che ha citato, quindi la richiesta, come le formazioni populiste risponderanno alla richiesta di giustizia sociale, di Stato sociale, Fabio credo che abbia un punto da porle. Mi permetto di dire due cose e poi magari dopo di me e Fabio e la sua replica apriamo il microfono, prendiamo due o tre domande non di più e poi la ringraziamo e la lasciamo andare. Però a proposito di controbattere qualcosa accadrà, controbattere è importante proprio per rendere visibile il fatto che un'alternativa esiste e anche per increspare questa pacificazione sociale che sta cominciando a diventare un po' inquietante rispetto a questa deriva populista. Dico e lo dico anche perché sarà importante la partecipazione che c'è un collettivo che si chiama 20K che si occupa di diritti dei migranti che ha lanciato per il prossimo 14 luglio una manifestazione a 20 miglia. Quindi su uno dei confini che oggi sono anche politicamente caldi rispetto alla questione della libertà di movimento e dei diritti dei migranti. La manifestazione richiederà soprattutto il fatto di poter ottenere per i migranti un diritto di soggiorno europeo. Certamente l'obiettivo oggi è complesso ma far vedere, rendere visibile, portare in piazza, animare uno spazio pubblico che si faccia interprete di queste richieste è qualcosa di fondamentale. Quindi noi da tutto il nord est come centri sociali, come global project aderiamo a questa manifestazione, andremo se siete interessati poi fermatevi e chiedeteci come fare a venire con noi perché più saremo e meglio è mai come in questo momento importante e particolarmente importante esserci. Mi collego, vengo di nuovo alla stretta attualità, mi collego alla questione del conflitto. Effettivamente in queste ore siamo testimoni di un altro conflitto, forse meno produttivo, che quello che sta accadendo in Germania all'interno dell'area dei cristiano democratici e cristiano sociale. Una sorta di rivalità storica che sembra rinnovarsi tra la Baviera più conservatrice e Berlino, un conflitto che ha le sue radici alcuni anni fa. Nel 2015 vengono diffuse le foto di Alan Kurdi, il bambino che tentando di sbarcare sulle coste europee muore e viene trovato cadavere e raccolto cadavere sulla spiaggia. Quelle foto allora hanno indignato l'opinione pubblica, cosa che tre anni dopo sembra non accadere più, tanto da spingere un'assolutamente prudentissima Angela Merkel a dire sì, apriamo le nostre frontiere, conserviamo Schengen, accogliamo i migranti. Ecco, da allora qualcosa cambia in Germania, quella Germania che era stata la monolitica esecutrice, la monolitica boia per esempio della Grecia nel ciclo dell'austerity, che non aveva fatto trasparire non solo nessun spazio di agibilità politica nei confronti in particolare della Grecia, ma anche degli stati mediterranei che chiedevano una maggiore elasticità sul debito sovrano, ma non aveva nemmeno espresso alcun tipo di pietas nei confronti, almeno questo ci è sembrato a noi, nei confronti per esempio del popolo greco, visto che parliamo di popoli questa sera. Ecco, Angela Merkel in quell'occasione apre le frontiere e succede qualcosa, c'è qualcosa che si rompe all'interno del blocco cristiano-democratico, cristiano-sociale tedesco e la mia domanda è che cosa significa quel conflitto lì e che tipo di conseguenze può giocare in questo scacchiero europeo già così provato, diciamo, dal maglio populista? La cosa che tu dici è di somma importanza e dà radici lontanissime. Il conflitto tra Berlino e Monaco è la grande divisione che passa per la Germania, dall'epoca a Guglielmina, è a Monaco, è nella Mitteleuropa tra Monaco e Vienna che nascono i movimenti che poi daranno vita al nazionalsocialismo eccetera. È una cosa, il contrasto anche culturale tra Monaco e Berlino è secolare. Il fatto che riesploda oggi veramente fa parte di quel fenomeno per cui rinascono, quando mai non te l'aspettavi più, appunto, faglie antiche che erano state coperte ma non erano state sanate. Si credevano superate ma invece erano semplicemente state mascherate. Questo è un fatto davvero che dà molto a pensare. Tra Monaco e Berlino ci sono stati decenni negli anni tra cavallo dell'altro secolo, fino agli anni 30, tutti gli anni 20, di contrasto proprio anche culturale, nelle manifestazioni artistiche, nelle organizzazioni culturali. E il fatto che oggi questa faglia riesploda è di una pericolosità estrema. Io credo che sia la cosa più pericolosa che sta avvenendo oggi in Europa, quella. perché la possibilità che riparta un disegno di unità politico europeo su basi appunto non populiste, non l'internazionale populista di Salvini, ma Salvini ha annusato la cosa, anche qui sembra aver letto a rovescio le cose più intelligenti sulla storia europea di questo secolo, questo personaggio. perché ha capito che non è tanto, sì, paesi dell'est europeo anche, ma che i suoi alleati sono Monaco e Vienna, Monaco e Vienna. E adesso a Pontida si è presentato con Rosario, perché avviene in reazionare tutti i cattolici e anche a Monaco. È la parte cattolica della Germania e l'Austria, no? È la parte cattolica della Mitteleuropa che ha sempre avuto questo atteggiamento polemico con Berlino, con Berlino. Questo è fondamentale. Con Berlino e la Germania, la Germania, la Germania prussiana, Berlino, era una Germania, è la Germania di Federico, è la Germania anche illuminista, è la Germania, eccetera, eccetera. Invece Monaco è la Germania cattolica, no? Mi piacerebbe qui, dove va a insegnare Schelling dopo la conversione, no? A Berlino ci va Fichte, ci va Hegel. Sono secolari faglie, che se riesplodono è finita, per il nostro discorso, bisogna saperlo, perché a tutto possiamo contrapporci, ma non ad una Mitteleuropa, Monaco, Vienna, il resto dell'ex impero osburgico, eccetera, populista salviniana. Con Salvini ce la facciamo, ma con questa Mitteleuropa no. E quindi dobbiamo sapere, il punto che tu hai indicato è un punto decisivo, non lo so. Mi auguro, lo dico francamente, io avrei votato, se fossi stato tedesco, avrei votato la Merkel senza pensarci un secondo. Un secondo. Mi auguro che la Merkel ce la faccia, che la socialdemocrazia con lei tenga e che in qualche modo riescano a tenere insieme e ad arrivare alle elezioni europee del prossimo anno in modo tale che vi sia ancora la conferma di una maggioranza socialdemocratica, popolare, in Parlamento europeo. perché se il segnale fosse di un capovolgimento delle maggioranze, io penso che dovremmo pensare davvero a una trentina d'anni di lunga marcia. Grazie. 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 Grazie.